Guardando un albero riesce a immaginare il bosco e osservando il bosco riesce a cogliere ogni singolo albero. Ci sono luoghi tangibili, immutabili, radicati nella memoria di una comunità, luoghi che sono punti di riferimento e di partenza. Questo è il bosco della partecipanza agraria di Nonantola. Il bosco della partecipanza, questo bosco, è un luogo reale, definito, riconoscibile nei suoi sentieri, nei suoi odori, nei suoi rumori e nei suoi mutevoli colori. Uno spazio in cui ritrovare il contatto con la natura. Immagina se potessimo rinchiudere il bosco in una stanza, rivedere gli stessi alberi, lo stesso lago o la stessa farfalle in un luogo irreale, che ci permetta di vedere ogni singolo elemento da una nuova prospettiva. La donna che da sempre ha vissuto il bosco come parte di sé, potrà perdersi stupita in questo non luogo. Dove il bosco, il suo bosco, eredità di una storia millenaria, le appare mutato e trasformato. Una partecipanza che d'ora in poi vedrà con occhi diversi. Gli occhi curiosi di una bambina. Gli occhi curiosi di una bambina.